sapete come si dice no? un giorno ti va bene, un giorno ti va male, un giorno sei felice, un giorno ti crolla il mondo addosso, un giorno riesci a fare tutto e un giorno non riesci a fare più niente, e io cosa posso dire? Che qui all'Osberg andava tutto 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 bene come potete ben vedere, avevamo una bella farm, avevamo i nostri mezzi, insomma andava bene, il lavoro andava bene, avevamo fatto le prime trebbiature, avevamo lavorato per la prima volta i campi, ma come sapete non è sempre tutto rosa e fiori, stavamo pensando addirittura di ampliarci, di continuare, perché comunque il lavoro era tanto, i nostri raccolti erano appunto pronti per essere raccolti, mi scuso veramente per il gioco di parole, avevamo intrapreso anche una strada con il legname, avevamo gente, gente del paese che veniva da noi e chiedeva la legna perché si era sparsa la voce appunto che avevamo intrapreso questa strada perché nessuno in l'Osberg faceva la legna, poi avevamo avuto richieste dai vari biogas che addirittura ci avevano chiesto di produrre del cippato, noi avevamo addirittura affittato questa macchina per riuscire a farlo e tutto andava bene, avevamo X-Droid 88, avevamo i nostri colleghi Nico, Lorenzo... insomma ragazzi andava tutto tutto bene, ma poi come in tutte le cose quando va bene succede l'irreparabile. E infatti proprio come temavamo qualcosa accadde. eravamo stati chiamati da polizia ambientale e ci chiesero di salire su quest'elicottero perché dovevamo vedere qualcosa? qualcosa già non andava... aspettavamo fiamme, vedevamo fumo, vedevamo squadre di vigili del fuoco al lavoro... ... 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 nostro carrettino dove diedero a fuoco anche al cumulo di cipato, fecevo ribartare il pend e la nostra trebbia gli diedero a fuoco, ci rubarono tutto tranne una nostra seminatrice, ci rubarono tutto il raccolto, tutto quello che avevamo fatto fino ad ora era sparito, i nostri campi furono completamente rovinati, noi chiamiamo la polizia, intervenne la squadra di vigile del fuoco di Lostberg, ma noi avevamo perso tutto quanto, tutto il nostro patrimonio, tutti i nostri mezzi, tutti i nostri attrezzi rovinati, tutta la farm spaccata e il fuoco, il fuoco ci ha rovinato, queste persone ci hanno rovinato, purtroppo non sappiamo chi è stato, ma come tutto ha un inizio, questa volta dobbiamo dare la fine e abbiamo deciso di spostarci, abbiamo già trovato un posto e ve lo mostrerò tra pochissimo, perché me ne voglio andare in silenzio con queste immagini. Grazie a tutti. Quando tutto finì in Lostberg eravamo disperati, ma il tutto non ci fece abbattere e decidemmo a questo punto di trasferirci, andare in un posto più povero, perché comunque qui la vita è povera. Però noi vogliamo dare a questo paese una scossa, perché inizieremo come avevamo iniziato in Lostberg, con un niente, con due miseri trattorini, una misera trebbia e un misero carrettino che il padrone dell'azienda ci ha lasciato con ancora un circa 8.000 litri di patate per guadagnare qualcosina. In totale siamo nell'est, siamo arrivati nell'est per guardare questa nuova avventura. Ci dedicheremo appunto, come abbiamo fatto nella nostra vecchia Lostberg, alla lavorazione dei campi, alla creazione del cipato, al legname e qui sperimenteremo anche l'allevamento del bestiame. Però, cosa posso dirvi? È stata una brutta avventura quella che è successa in Lostberg, ma non ci siamo abbattuti, ci siamo tirati su le maniche, abbiamo fatto dei lavoretti non nell'agricoltura per ritirare su un gruzzolettino e da qui appunto ripartiremo. Quindi, diciamo, chiudiamo la parentesi Lostberg, che purtroppo è finita male come avete visto, ma la polizia sta ancora cercando quelle persone che hanno voluto far finire la nostra avventura e ripartiremo da qui. Ripartiremo con i miei compagni di viaggio, quindi Xdruido88, Nico e Lorenzo. Per cui, niente, io vi rimando al primissimo episodio su questa bellissima mappa, questo bellissimo scenario e questo bellissimo ambiente chiamato FSH, se non serie ungherese. A presto! FSH! 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 FSH!